Ci portiamo presso l'abitazione della persona anziana per effettuare il prelievo bancario. Banco 23 ha ricevuto. Buongiorno, sono l'agente della polizia locale Fiorella. Ci serve solo il numero del conto corrente, così lo dobbiamo segnare sulla delega. Un attimo contare, dentro c'è il documento, il conto adesso, così almeno verifica se l'importo è esatto. Ok, tutto andato bene? Grazie. Arrivederci, buongiorno. Buongiorno, la polizia locale di Milano. Buongiorno, noi stamattina siamo presso il domicilio della residenza di suo padre. Ok. Puoi modellare la carta dell'identità? Sì. Ok. Eh, vuol dire, vediamo che passa presto. Ok? Eccoci qua. Va bene? Grazie. A posto, vi ho dato tutto. Grazie. Buona giornata, eh? A voi. Grazie, buona giornata. Grazie.